L'iniziativa è la seconda edizione della mostra a mercato Valzerra, territori e tradizioni. Si svolge dal 4 giugno al 7 giugno. Consiste nell'essere tra i soggetti che dovranno impegnarsi ulteriormente per la gestione del territorio, per la tutela naturalistica, per la tutela della fauna e della flora e soprattutto rilanciare anche e salvaguardare la cultura rurale. E quindi uno dei siti migliori della nostra regione e della nostra città è Valzerra, dove noi con questa iniziativa vogliamo continuare a dimostrare che le cose che diciamo, che affermiamo poi le vogliamo fare anche in concreto. Ci saranno una serie di eventi in coerenza appunto a questo principio, che vogliamo essere tra i soggetti che intervengono a favore dell'ambiente. Quindi ci saranno iniziative relativamente all'attività cinofile, all'attività mostra canina, agile di dog, falconeria. Ci saranno anche le scuole che assisteranno al volo degli uccelli, dei rapaci. E quindi ci sono tutta una serie di iniziative. Poi ci sono anche l'esposizione dei prodotti tipici e gastronomia tipica. E inoltre ci sono naturalmente, essendo una festa di popolo, ci sono anche la sera, momenti di intrattenimento, di spettacolo, e tra questi c'è anche l'orchestra Casa Dei. E poi ci sono tutta un'altra serie di complessi altrettanto importanti che appunto allevano la sera di stare insieme.